Da Paletta a Lachiluciano. Nella parabola dei soprannomi attribuiti a Luciano Moggi, nato a Monticiano in provincia di Siena il 10 luglio 1937, è condensata la sua storia. Paletta in quanto inizialmente dipendente delle ferrovie dello Stato. Lachiluciano in quanto considerato soprattutto dai tanti nemici una sorta di padrino della cupola del pallone. In realtà la storia di Moggi è innanzitutto quella di un self-made man, di un personaggio che si è fatto da solo, animato da grande passione e grande conoscenza del calcio. Nelle ore libere, in cui non doveva gestire treni, partenze e arrivi, non perse mai l'occasione per recarsi sui campi di gioco, con la vocazione di scopritore di talenti, e fin dal principio ebbe l'intuizione che non sarebbe mai bastata la capacità individuale per fare strada, perché l'ideale era creare un'organizzazione di osservatori al suo servizio. Il maestro e il modello fu Italo a Lodi, il manager dell'Inter di Papamoratti, della Juventus di Boniperti e del Napoli di Ferlaino. Attitudini nella scelta dei giocatori, attenzione nei riguardi della stampa e diplomazia nei riguardi degli arbitri. Lo sbarco sul pianeta calcio negli anni 60 avvenne attraverso la porta stretta e ai limiti del regolamento. Cominciarono a trovare spazio infatti i cosiddetti mediatori, persone simili ai procuratori di oggi, che si inserivano fra gli atleti e i direttori sportivi delle società, caldeggiando acquisti e cercando un tornaconto personale. Siccome questa figura fu ufficialmente vietata dalla federazione, Moggi già ben noto per le sue conoscenze tecniche, divenne uomo mercato di tanti club italiani di prestigio, Torino, Napoli, Roma, Lazio e infine Juventus. Con il Torino ottenne un secondo posto in campionato, con il Napoli il secondo scudetto di Maradona, con la Juventus qualcosa come 13 vittorie in 12 anni. Ma è nella valorizzazione di giocatori non ancora considerati fenomeni che Moggi conquistò buona parte della sua fama, attirando, come sempre succede, elogi e invidie, applausi e fischi, anche per il suo modo beffardo, per molti dispotico, di festeggiare i successi. Se a Napoli aveva trasportato mezzo Torino, nella Juventus lanciò Deschamps, Zidane, Inzaghi, Treseguet, Ibrahimovic, Camoranesi e Zambrotta, rilanciò Vialli, Davids e Cannavaro e attese, dopo un grave infortunio, il recupero di Del Piero. Ebbe il merito di vincere, almeno per buona parte di quei 12 anni, senza chiedere aumenti di capitale alla famiglia Agnelli. Per uno Zidane che partiva arrivavano Buffon, Toram e Nedved e la ruota dei trionfi continuava a girare esattamente come prima. Alla fine è stata proprio l'eccessiva disinvoltura nel gestire lo strapotere, costruito con la competenza calcistica e con l'estensione tentacolare della GEA, il boomerang che lo ha messo a tappeto.